Anticipazioni Beautiful, non meritavano di morire. Amati personaggi che hanno lasciato il segno in Beautiful. Benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi racconteremo tutto mostreremo un video che vi farà ricordare i personaggi più amati della S.O.P. che hanno fatto una brutta fine ingiustamente. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. La S.O.P. opera Beautiful è stata caratterizzata da molte morti tragiche nel corso degli anni, ognuna delle quali ha avuto un impatto significativo sulla trama e sui personaggi della serie. Oggi esploreremo una selezione di queste morti che hanno segnato profondamente il destino dei Forrester e dei Logan. Cominciamo con Darla Einstein. Darla è un altro personaggio le cui circostanze della morte hanno toccato profondamente i fan. Darla era l'assistente di Sally Spectra e aveva una figlia, Alexandra Forrester, avuta con Thorne Forrester. La sua morte è stata il risultato di un tragico incidente mentre cercava di aiutare Phoebe Forrester con una gomma a terra. L'amore di Darla per sua figlia è stato evidente fino alla fine, e la sua morte è stata un momento straziante per la serie. Anche Storm Logan, il fratello delle Logan, ha avuto una morte altrettanto tragica. Storm ha sparato accidentalmente a sua sorella Katie Logan e, per salvarla, Storm roso dal senso di colpa decise di suicidarsi per donare il suo cuore a Katie. Questa decisione altruistica ha portato alla sua morte e ha segnato un momento commovente nella serie. La perdita di Storm è stata una testimonianza del legame profondo tra i membri della famiglia Logan e ha toccato il cuore dei telespettatori. Proseguiamo con Carolyn Spencer Sr., interpretata da Joanna Johnson. Caroline è stata una delle figure più amate nella storia di Beautiful. Era la sorellastra di Dower Bill Spencer e l'anima gemella di Ridge Forrester. La sua morte è stata causata da una battaglia contro la leucemia, e la sua perdita ha scosso profondamente i fan. La chimica tra Caroline e Ridge era palpabile, e il loro amore era un punto fermo nella serie. Anche se è tornata come un fantasma e successivamente attraverso una gemella di nome Karen, la sua morte ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan dei personaggi della serie. Passiamo ora a Carolyn Spencer Jr., interpretata da Lindsay Goffrey. Questa Caroline era la figlia di Karen Spencer. Era una delle stiliste più talentuose della Forrester Creations e ha avuto relazioni complesse sia con Rick che con Ridge Forrester. La sua morte è stata causata da un tragico incidente automobilistico durante una discussione con Ridge. La sua giovane età e il suo talento promettente hanno reso la sua morte ancora più devastante. Il suo spirito vive attraverso suo figlio Douglas, che è stato al centro di molte trame emozionanti. Febe Forrester, la gemella di Steffi, ha avuto una morte altrettanto tragica. La sua storia d'amore con Rick Forrester ha portato a un tragico incidente automobilistico mentre litigava con lui. La sua morte ha scosso profondamente la famiglia Forrester e ha segnato un punto di svolta nella trama. La giovane età di Febe e il suo potenziale in espresso hanno reso la sua morte ancora più straziante. Infine, la morte più iconica di tutta la serie è di certo stata quella di Steffi Forrester, interpretata da Susan Flannery. Steffi è stata una delle figure più influenti nella serie e una vera matriarca. La sua morte è stata causata da un cancro polmonare allo stadio terminale e ha scelto di morire pacificamente nella casa di Big Bear tra le braccia della sua storica rivale, Brooke Logan. Questa morte è stata un addio epico e ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti i fan. L'eredità di Steffi continua a influenzare la serie e il suo ritratto sopra il cammino di Eric Forrester è un costante ricordo del suo ruolo nella famiglia. In conclusione, Beautiful è stata caratterizzata da molte morti tragiche che hanno plasmato profondamente la trama e i personaggi della serie. Ogni morte ha avuto un impatto unico sulla serie e ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei fan. La serie ha saputo affrontare con sensibilità e drammaticità le tematiche legate alla morte, rendendo questi momenti emozionanti e indimenticabili per il pubblico.